Buonasera a tutti, mi chiamo Guglielmo, ho 32 anni, vivo a Roma in una casa bellissima, la casa dei miei sogni, una casa che non mi sarei mai mai potuto permettere se avessi seguito la mia passione per il calcio, ma che invece sono riuscito ad acquistare con la mia professione, l'avvocato. Ora, per chi non lo sapesse, l'anno scorso ho avuto la fortuna di essere annoverato tra i 100 avvocati under 40 più influenti nel mondo. Sto con Letizia da tanto tempo, tra un mese faremo il nostro primo anniversario e quando ho visto Letizia la prima cosa che ho fatto è stato perdere completamente la testa. Ho perso anche il mio posto in squadra perché suo padre era il mio allenatore, quindi automaticamente. però poi è andato tutto bene, tutto quanto, insomma, è filato liscio. Ora, in un mondo nel quale le persone non sanno che cosa vogliono, io sono stato fortunato perché io sin da subito ho capito cosa volessi dalla vita. Avevo un sogno. Io credo veramente che i sogni si avverino. E credo anche che il sogno più bello che io abbia mai fatto l'ho fatto a occhi aperti quando ho visto Letizia la prima volta. E anche quando Letizia mi ha fatto il regalo più bello che secondo me un uomo possa ricevere. Una settimana fa mi ha reso papà. Mi chiamo Guglielmo e tutto quello che vi ho appena detto è una cazzata. E per quanto possa sembrare assurdo, magari, per alcuni di voi, la persona che vi ho appena presentato non potrebbe mai rendermi felice. Ho scelto questo elenco di bugie apposta perché ho detto sono tutti avvocati in famiglia, ho pure l'età per essere papà, magari può sembrare che sono innamorato, può sembrare che sono onesto, può sembrare che sono felice. Sembrare o essere due termini che secondo me sono importantissimi. Facciamo un esperimento, adesso mi ripresento e cerco di dirvi la verità. Mi chiamo Guglielmo e non mi sento più così giovane perché ci sono già persone che hanno dieci anni meno di me e hanno fatto dieci volte quello che ho fatto in tutta la mia vita. Stavo insieme a un ragazzo pazzesco, bellissimo, perfetto e ora sono single. Non amo il calcio, mi annoia da morire, non ho un figlio o un cane affetto da flatulenze. E spesso mi sveglio la mattina senza sapere minimamente che cosa stia facendo della mia vita, senza sapere minimamente in che direzione mi stia muovendo. E per quanto può essere assurdo, questa persona è quella che ha più possibilità di rendermi felice. Ora io vedo che alcune persone hanno iniziato a storcere la bocca appena ho iniziato a dire determinate cose, altri che prima erano un po' straniti, gli stava sulle palle, questa versione vincente di Guglielmo adesso sono più distesi, sorridono, della serie, grazie a Dio, grazie a Dio anche lui è un fallito, mi ha preso un colpo, quindi tranquilli, tranquilli. Però torniamo un secondo a questi due termini, sembrare o essere. Qual è più importante? Io non credo che esista una risposta, io non credo che dall'alto qualcuno ti giudichi se scegli di agire in un modo o in un altro. Non esiste un bene o un male se parliamo del nostro bene, del nostro male. Faccio un esempio. Ora, un po' di anni fa una mia prozia venne da me e mi regalò un suo tupè da utilizzare all'interno di uno dei miei video. Perché qualora non lo sapeste io faccio intrattenimento online su YouTube. Ok? Per chi non sapesse cos'è un tupè è una specie di palla di capelli, un cespuglio di roba morta fondamentalmente che ti appiccichi in testa. orribile. Specialmente se pensi che tua zia l'ha indossato in tenere età. Ora, io ovviamente ho finto di essere contentissimo di aver ricevuto questo regalo. Sembravo, sembravo felice. E non è stato sbagliato. Non me ne sono pentito. Perché il mio sembrare qualcosa che non ero mi ha permesso di non mortificare mia zia. Magari ci ha avvicinato in un certo senso. Ora io, mia zia, la porto nel cuore e se voglio la porto in testa. Secondo me dobbiamo fare tutti quanti chiarezza su questa cosa. Dovremmo tutti quanti renderci conto che a un certo punto della nostra vita esistono questi due termini sulla bilancia. sembrare o essere. Io sono sembrato Guglielmo tanto, tanto, tanto tempo. E più sembravo Guglielmo, più volevo essere Guglielmo. Era un momento in cui avevo questa esigenza così forte che volevo fare come San Francesco. Volevo accettare, cercare, guadagnare la mia nudità e mostrarla al mondo. Nessuno mi aveva detto quanto sarebbe stato difficile togliere ogni singolo strato, togliere ogni singolo filtro che la società in realtà ti vuole trattenere addosso. C'è un termine che secondo me spiega perfettamente questa azione. Rimuovere delle vesti che fanno stare bene gli altri, che li tranquillizzano, li rasserenano, ma che a te soffocano come un maglione a collo alto, a ferragosto. Si sta bene. Il mio primo coming out l'ho fatto con la mia nascita. Partiamo da questo. Cioè i miei genitori pensavano di aver fatto tutto quanto in regola, pazzeschi. Sembrava che io non dovessi nascere, invece, pam, eccomi qui. Sembrava che non avrebbero avuto un figlio, invece, ciao mamma, ciao papà, c'è un video. Quindi lo vedranno, spero. Il mio secondo coming out è avvenuto con la loro separazione. Ora sembrava che la separazione tra due genitori dovesse devastare un bambino. C'era una compagnetta, una mia compagnetta degli elementari, che stava vivendo la mia stessa situazione, ok? Io così tante lacrime non le ho viste manco, non lo so, un concerto di Justin Bieber, queste cose qui. Quando mia mamma e i miei nonni vennero da me a dirmi, ci stiamo separando, ci andiamo via, io mi sono messo a correre per il giardino, felicissimo, sì dai, torniamo a Roma, bellissimo. Le famiglie sembrano felici. Non è detto che sempre lo siano davvero. Un altro coming out l'ho fatto, non lo so, con l'università. Sembrava che dovessi seguire quelle che erano le orme di tutta quanta mia famiglia. Giurisprudenza, poi diventi avvocato, come il nonno, la mamma, la cugina, lo zio, il prozio, secondo me pure il mio cane ha una laurea in giurisprudenza che non lo so ancora, e invece mi sono aperto un account su YouTube che sembrava non avrebbe portato da nessuna parte e invece mi ha permesso di trovare una mia voce, di ascoltare la voce di tante persone che mi hanno arricchito, di accedere al cinema, alla tv, all'editoria, alla radio. Poi uno dei miei preferiti. Sembrava che sarei dovuto rimanere per sempre con questa mia compagnetta di banco, che mi sarei dovuto fidanzare con questa mia compagnetta di banco. E invece volevo fidanzarmi con suo cugino. Quindi... Io credo che ognuno di noi debba vivere la propria vita, cioè proprio come meglio crede, nel rispetto di se stessi e degli altri. E poi lo so, lo so, il mare della vita non è calmo per tutti. Può arrivare un'onda anomala all'improvviso che non puoi prevedere, che ti travolge completamente. E l'unica cosa che ci rimane sono le nostre scelte. Una tavola da surf, ok? Più o meno larga, con la quale abbiamo più o meno di mistichezza, che alcuni di noi non sanno prendere tra le mani, altri non hanno nemmeno il coraggio di mettere sotto braccio. E in questo mare tu vedi gente che affatica, cerca di rimanerci in bilico, altri che ci provano e cadono. E poi altri ancora, che non si sa come, beccano l'onda perfetta e surfano fino a riva. Si girano e si chiedono come sia possibile che qualcun altro si sia abbagnato. Senza domandarsi minimamente che tipo di mare abbiano incontrato, che tempo abbiano incontrato, se abbiano ricevuto la stessa tavola. Ora io faccio questa metafora non tanto per dirvi quanto secondo me sia importante arrivare a giungere, arriva asciutti, ma quanto sia importante e fondamentale fare di tutto per arrivarci. Vi ho parlato di questa tavola che rappresenta le nostre scelte. E noi ne abbiamo sempre una, legata al polso. Non importa la situazione. Noi sotto braccio abbiamo la possibilità di scegliere un potere enorme. me. Ora, sembrare o essere? Virare a destra o a sinistra con questa benedetta tavola? Io ho visto persone che sono sembrate se stesse per una vita intera. Hanno finto di amare chi non amavano. Hanno finto di studiare, non studiavano. Hanno finto di essere genitori felici, non lo erano. Hanno finto di amare un sesso che non amavano. Hanno finto di appartenere a un genere che non gli apparteneva. Hanno finto di essere uomini, mariti, amati e rispettati. Hanno finto di essere donne, mogli, amati e rispettati. Il mare delle scelte è pieno dei loro cadaveri. Naufraghi che si sono lasciati annegare per paura di scontentare qualcuno, deludere qualcun altro, per paura delle conseguenze. Ora, non c'è tempo, non possiamo parlare delle conseguenze. Io credo che però ognuno possa immaginare le conseguenze delle proprie azioni. Vorrei finire però facendo una considerazione. Una considerazione che secondo me è a monte di tutto. Sapete quanti ragazzi si tolgono la vita perché non riescono a essere se stessi? Tanti. Troppi. Noi abbiamo una sola vita. Abbiamo la possibilità di scegliere anche quando queste sembrano molto limitate. Però dovremmo tutti quanti porci una sola domanda. Quando a scegliere per noi sono gli altri? Ne vale davvero la pena? Grazie. Grazie.